Abbiamo organizzato questo terzo incontro sulla riabilitazione dedicato al nostro amico Pasquale Pace incontri tematici di riabilitazione perché volevamo mettere l'attenzione su importanti temi quali sono quelli dell'anziano, la riabilitazione dell'anziano, i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza e poi il dolore. Sono tre tematiche importanti di riabilitazione e oggi abbiamo avuto la fortuna di avere qua i massimi esperti della riabilitazione nazionale già col presidente nazionale Fletzer e tutti i vari componenti della segreteria nazionale. È un momento importante perché il confronto è quello che sicuramente ci farà crescere e ci permetterà di migliorare le nostre attività riabilitative. Anche alla luce del fatto che ho la fortuna oggi di essere inserito nella parte dirigenziale alta essendo il direttore sanitario della regione Marche, dell'Asur, delle 13 zone territoriali che verranno poi trasformate in 5 aree vaste e questo ci permetterà anche di poter vedere e gestire nella maniera migliore una risoluzione riabilitativa che ci possa portare ad ottenere nuove frontiere perché la riabilitazione è fondamentale oggi sia per quanto riguarda il discorso dell'aumento dell'età media delle persone, nonché l'aspettativa di vita delle persone e questo ci consentirà anche di avere un'organizzazione tale per cui essere in grado di poter gestire a livello direzionale tutta una regione ci permetterà di facilitare proprio il compito del miglioramento dell'attività riabilitative. Grazie